Quando si dice clorofilla si pensa subito al verde delle piante e di fatti è proprio questo il significato della parola, che viene dal greco e vuol dire foglia verde. Con clorofilla genericamente si intende una classe di pigmenti di colore verde e giallino che sono presenti in tutti gli organismi che compiono fotosintesi clorofiliana e che non sono solo le piante e le alghe, anche i prokaryoti per esempio, ma questa è tutta un'altra storia. Dove è presente sulla pianta ecco che questa ci appare verde e non è solo sulle foglie ma anche sui gambi e sui rami giovani. Le molecole di clorofilla sono davvero particolari e complesse, questa per esempio è la clorofilla A. Mi ricorda una specie di chiave con al centro della testa un atomo di magnesio, quello colorato in giallo. Quest'atomo di magnesio compatte e rafforza la molecola irrigidendola e ciò fa sì che non si possa disperdere verso l'esterno sotto forma di calore l'energia solare ancora prima che venga utilizzata. La coda poi, questa lunga catena, ancora la molecola all'interno dei cloroplasti ed è per questa capacità di catturare e convoiare l'energia solare che la clorofilla è di fondamentale importanza per il processo della fotosintesi clorofiliana. Processo che tutti gli esseri vegetali compiono. Infatti vengono definiti organismi autotrofi, ossia in grado di nutrirsi da sé, elaborando composti organici e partendo da sole sostanze inorganiche. Per procacciarsi nutrimento e sostentamento alle piante occorre soltanto un gas naturale da respirare, ossia l'anidride carbonica. Producono attraverso gli stomi questa specie di minuscole finestrelle che si aprono e si chiudono, regolamentando anche la fuoriuscita di ossigeno e di vapore aqueo. Gli stomi sono presenti in tutte le piante terrestri, localizzati soprattutto sulla pagina inferiore delle foglie, a decine di migliaia per centimetro quadrato. Un'altra sostanza inorganica indispensabile è l'acqua, assorbita attraverso geniali appendici, le radici. Infine l'aiuto del sole che fornisce l'energia necessaria per questa reazione chimica, molto complessa e affascinante e per certi versi ancora misteriosa. La fotosintesi si compie nei cloroplasti, questi organelli, verdi di clorofilla, presenti abbondantemente nelle cellule vegetali. Essi si muovono velocissimamente verso la luce che colpisce la foglia, catturando l'energia dei fotoni e convoiandole in appositi anelli. Potremmo quasi immaginare una sorta di gioco. In questi anelli, chiamati non a caso centri di reazione fotosintetica, avviene la trasformazione dell'energia elettromagnetica in energia chimica, necessaria per scendere la molecola di acqua in ossigeno e idrogeno. Questa è la formula bilanciata della reazione chimica. Occorrono quindi 6 molecole di anidride carbonica, 6 molecole di acqua, un'enorme quantità di energia luminosa, la mediazione della clorofilla, per sintetizzare una molecola di glucosio e liberare 6 molecole di ossigeno. Di questi due composti organici alle piante interessa solo il glucosio, che dalle foglie ridistribuiscono lungo tutta la pianta attraverso la linfa. L'ossigeno invece è uno scarto e viene liberato nell'atmosfera. Ed è proprio per questo quindi che la fotosintesi clorofiliana è il processo primario e fondamentale per la vita sulla Terra. Proviamo adesso ad estrarre la clorofilla con un antico e semplice metodo, ricordando che sono pigmenti davvero molto labili. L'ingrediente principale ovviamente sono le foglie. Foglie di qualsiasi tipo, purché siano fresche, non bagnate e neanche coriacee. Occorrono inoltre un mortaio di ceramica, un contenitore dove raccogliere la soluzione e un solvente in grado di estrarre la clorofilla, che può essere l'acetone, anche quello usato per togliere lo smalto dalle unghie, oppure l'alcol, per esempio quello a 95 gradi, quello che si usa per fare i dolci. Incominciamo spezzettando le foglie, anche grossolanamente. Poniamole nel mortaio e versiamoci sopra un poco di acetone e iniziamo a pestare. Dopo appena qualche secondo già si vede la soluzione iniziare a colorarsi. Versiamo quindi il rimanente acetone, continuando a pestare, per spezzare le fibre delle foglie e agevolare così l'azione del solvente, che di fatti si colorerà di un bellissimo verde, il verde della clorofilla. Ed ecco la nostra soluzione, che non è però propriamente pura. Di fatti, con questo semplice esperimento, abbiamo estratto tutti i pigmenti presenti nelle foglie e che le colorano diversamente. Quindi, quando vediamo verdi le foglie, è perché vi è prevalenza di clorofilla. In autunno, con il diminuire dei raggi solari, si riduce inevitabilmente anche la concentrazione di questo pigmento cattura luce, facendo così riaffiorare tutti gli altri. Ed è per questo motivo che vediamo quelle stupende colorazioni di bruni, rossi e gialli. Anche noi sfruttiamo le tante virtù della clorofilla, per esempio come salutare integratore, oppure per colorare prodotti alimentari e farmaceutici, anche come efficace deodorante, sensibilizzatore fotografico e addirittura come antidetonante. Fantastica clorofilla! Grazie! Grazie!